la seconda sconfitta del campionato sconfitta che comunque non pregiudica assolutamente il cammino no assolutamente noi guarda siamo venuti qua e senza sette otto titolari praticamente anche se ho detto ai ragazzi che prima che questa squadra 25 titolari regalare anselmo costantini benedetti scarone grandoni capisci che sono i giocatori più forti del campionato e contro qualsiasi contendente mette male poi oggi purtroppo è capitato per i nostri tifosi che ci tengono ma io oggi gli dicevo ad essere ragazzi che sono da fare gli auguri che ho capito che questa squadra l'ho capito oggi che veramente può vincere il campionato perché praticamente con la juniores in campo l'imperia mai giocato a calcio ragù fino a 10 minuti alla fine non aveva fatto parate e noi con 7 under dal primo minuto poi abbiamo finito con 11 praticamente parterà due under e abbiamo tenuto testa a una squadra che facevo sinceramente fatica prima a sapere che a capire come faccio essere così indietro a 17 punti ora faccio fatica a capire come fanno ad essere in zona play out grazie